Elegi despair, dormiti, another attack, dormiti, pronti a combattere, dormiti qui per vincere, Eroi degli elementi, siete voi, dormiti superboy, sempre imbattibili, dormiti senza limiti, dormiti raggiungibili, chi mi fermerà? The land is back, the legend is back, dormiti, dormiti! La conoscenza è potere! L'ultimo santuario solar che è più avanti, se i miei calcoli sono accurati, e posso assicurarvi che lo sono, tra poco saremo lì. Se superiamo questo percorso a ostacoli cosmico, oh, è una follia! Al contrario, è tutt'altro che una follia, per un'intelligenza superiore, le leggi del cosmo sono logiche e prevedibili. Ora riffo, giù! Cosa? La mia mente ora è in sintonia con il cosmo, in parole povere, so più cose di tutti voi. È così irritante, proprio come Icor, però peggio. Oh, andiamo, Aaron sta solo usando il cervello per una volta. È colpa dei frammenti del cosmo, lo stanno influenzando. Qualunque cosa sia, mi ha stufato! Ora basta, interruzioni inutili. Procediamo. Seskel! La tua strana peptinatura non è bastata a sconfiggere i guardiani. Che sorpresa! Scherzavo! Ascolta, ora che sono tornato in forma, devo affidarti un lavoro. Sì, voglio che tu mi faccia penetrare all'interno del santuario, Solark. E quando arriverà il momento di agire, i tuoi trucchetti temporali ci saranno utili. Ora basta, similare, estrangi il tuo bastone magico. Aoki, attiva l'energia alfa e facci entrare, avanti. Oggi, se è possibile. D'accordo, d'accordo. Forse dovremmo... Dovreste lasciar fare il resto a me. Provate a non fare niente di sciocco. Va bene, sei ufficialmente una spina nel bianco! Oh, Aaron! Allora, dov'è il Solark? Perché nessuno è puntuale da queste parti? Io sono Iridium, guerriero Solark e mago dell'ordine. Perché siete qui, giovani viaggiatori? Avete provocato un grave squilibrio nelle forze elementali di questo santuario. Sì, ho raccolto tutti i frammenti del cosmo del cuore del Titano e ora tu li riassemblerai, così noi potremo riportarli a Sol. Avanti, di corsa. Devo solo liberarli. Siamo giusto in tempo. Ora muoviti furtivo. Non devono scoprirci. Smettila di fare così. I frammenti non vogliono uscire dal guanto. La loro pura energia cosmica grezza è troppo instabile. Dovete unirvi a me in un antico rituale. O quell'energia porterà alla distruzione il santuario. Un antico rituale? Ah, sistemerò tutto con la mia intelligenza superiore. Fate come me. Questi movimenti porteranno ordine nelle forze cosmiche intorno a noi. Andran. Lantor. I Tantir. Ridicolo. Ho compreso le leggi immutabili che governano il cosmo. Nessuno mi farà ballare come un ebete. Ma tu adori ballare come un ebete? Adesso non più. Ora fate silenzio. Devo concentrarmi sul vero problema. Aggiustare questo guanto malfunzionante. Oh! Oh! Non di nuovo! Zanna solare! Guardiano, unisciti a me nel rituale. O il pericolo diventerà solamente più grande. Se non mi fai concentrare sul mio compito, non mi lasci altra scelta. Gormiti! Potenza degli elementi! FURIA DEL COSMO! COMBATTI! ELIOS! Comandante Cosmico! Comandante Cosmico! Oh, che succede? Questo Solark ci sta attaccando! Ehi! Nessuno fa il prepotente con i guardiani di Gor. Lord dei Gormiti! Fatti da parte! Non ci penso nemmeno. FURIA DEL COSMO! COSMO! Ho avuto molta pazienza, Gormiti. Ma ora dovete tutti andarvene da questo posto. Drago Ardente! FURIA DEL COSMO! 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 Aaron, questo non è da te. Guardiani, è vostro amico. Parlategli. Sembra che non gli importi più della nostra amicizia. Gli importa solo di dimostrare di essere il più sveglio. Hai ragione. Credo di avere un'idea. Fati come me. Andran. Lantor. I Tantir. Andran. Andran. Lanto, lanto, i tanti, i tanti Andran Siamo bravi! I tanti, i tanti, i tanti, i tanti, i tanti Siete bravi? State sbagliando tutto! Siete scoordinati, imprecisi e imbarazzanti Ah sì? Come dovremmo muoverci allora, signor so tutto io? Proprio in questo modo Andran, lanto, i tanti Wow! Quindi è così che si fa Facci rivedere Andran, lanto, i tanti Solark, credo che adesso possiamo terminare la nostra lite Andran, lanto, i tanti Wow! Che cosa è successo? L'energia e vibrazione, giovane guardiano Diventando tutt'uno con essa, l'abbiamo domata Ma solo momentaneamente Libera i frammenti Prima che ti influenzino un'altra volta Sono lo spiritosone della banda Essere quello intelligente era bello Uno spiritosone può essere la voce della saggezza Dato che molti saggi sono tipi di spirito Il segreto è trovare il giusto equilibrio tra testa e cuore Qualcosa sta influenzando di nuovo l'energia del santuario Dobbiamo procedere subito Credevo che quegli sciocchi non sarebbero mai riusciti a farcela E invece saranno proprio loro a portarmi dentro al tempio di Sol E poi il cuore del titano Tutto il cuore del titano sarà mio Prendiamoci un po' di tempo per goderci il momento Sei bravissimo a prendere tempo Sì, sì, ora vado Ti ho preso, cumulo di capacità mentali cosmiche Sì, il vecchio Aaron è tornato Beh, Iridium ha detto che dovevo trovare l'equilibrio Non credo che intendesse quel tipo di equilibrio Lo so, sarò anche uno spiritosone Ma d'ora e poi sarò uno spiritosone saggio Andiamo a portarlo a Sol Siete pronti? Sì! Scusaci! Sì! 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 Pronti a combattere Gormiti qui per vincere Gormiti raggiungibili Chi difenderà The madness is back The magic is back Gormiti Autore dei sorrisi Autore dei sorrisi